si sta riaccendendo l'aspiranza negli ultimi 4 5 6 giorni ha fatto un temporale di un'ora e mezza due comunque molto nutrito addirittura accompagnato da grandine e ecco che immediatamente il bosco ha risposto vedete qua abbiamo delle russule nella qualità tra le più pregiate la sciano santa come vedete abbiamo la nascita di delle gallette eccolo qui ce ne sono tantissime le ho lasciate ovviamente ho colto queste soprattutto per farvele vedere abbiamo degli imbutini questi buoni per i misti e anche per l'essiccazione quindi come si dice si torna momento a gioire si torna un momento perlomeno a vedere una nascita ho trovato anche dei piccoli porcini ma sono appena 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 sono dei bottoncini quindi le ho lasciati stare comunque signori questi questo video di da un po di speranza perlomeno a questa altezza ripeto ogni volta che io faccio di video dovete tenere conto che siamo a 1300 metri e di conseguenza l'altezza è piuttosto determinante in modo negativo per la nascita dei funghi comunque un buon misto per fare dei buoni spaghetti e per fare anche una padellata di con aglio prezzemolo